In studio, Veronica Puglisi. La SAC. Ieri indagati sarebbero legati, secondo quanto si apprende al momento, direttamente o indirettamente a un'attività di noleggio auto dal cui ufficio sarebbe partito l'incendio. L'iscrizione nel registro degli indagati è stato un atto dovuto per eseguire ieri, come incidente probatorio, l'analisi di materiali della SAC e dei subconcessionari da parte dei consulenti tecnici nominati dalla procura e dai periti e dai legali degli indagati. Il rogo in pochi minuti, la notte tra il 16 e il 17 luglio, generò panico e, allo stesso tempo, danneggiò l'aeroscalo etneo. Inevitabili le ripercussioni sull'intera stagione turistica, disdette ma anche disagi, fatte da continui spostamenti dei voli dirottati su Comiso e Trapani. Il collegio di difesa della SAC è costituito dagli avvocati Luca Blasi, Giuseppe Lofaro, Martina Reina e Gianluca Gulino. L'avvocato Blasi ha riferito di non essere assolutamente sorpreso dell'avviso di garanzia finalizzato ad accertamenti tecnici non ripetibili, altrimenti non utilizzabili in un'eventuale fase processuale, perché è un atto a garanzia dei molti indagati, anche non appartenenti alla SAC, ha detto ancora l'avvocato, che ha aggiunto. L'amministratore delegato, Nico Torrisi, è consapevole che si tratta di un atto dovuto a garanzia di tutti ed ha piena fiducia nell'operato della magistratura e auspica che venga fatta piena chiarezza. Ci spostiamo adesso a Comiso, dove è stata indetta una protesta per chiedere di sfruttare al meglio le potenzialità dell'aeroporto. L'idea è stata lanciata sui social da un NCC, Paolo Crocifisso e ha riscosso notevole successo. Dopo l'emergenza legata all'incendio dell'aeroporto di Catania, l'aeroporto di Comiso è tornato ad essere quello che in tanti definiscono la ruota di scorta di SAC, mortificato anche nelle sue potenzialità. Per questo sui social nasce la protesta di oggi, ideata da Paolo Crocifisso, un NCC, che chiede alla SAC risposte ben precise e naturalmente anche alla classe politica. Quello che chiediamo oggi, che chiedo e che chiediamo a tutte le persone oggi intervenute qua, è un potenziamento e un impegno veramente da parte di tutte le persone che fanno parte dell'amministrazione, la politica, le camere di commercio perché si possano potenziare i voli, perché la provincia è completamente sguarnita. Quest'anno è stata una stagione deludente, dopo le vicissitudini del primo di marzo che la RENR ci ha abbandonato, quindi chiediamo immediatamente una programmazione dei voli per quanto riguarda la prossima stagione. L'aeroporto come infrastruttura principale, perché non abbiamo strade, non ci sono ferrovie, non ci sono collegamenti, l'unico collegamento importante che abbiamo nella provincia è lo scalo. Alla manifestazione di protesta hanno preso parte i sindaci di Acate, Chiaramonte e Gulfi, assente invece il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha detto di avere espresso la sua posizione già durante l'ultimo CDA della SAC. Ma intanto è stata una stagione estiva da dimenticare per i tour operator del territorio, tante le disdette e numeri in caduta libera, per questo anche loro presenti oggi al Piola Torre per aderire alla protesta. L'aeroporto ha dimostrato che i suoi venti voli li può fare al giorno, quindi sistematicamente. Ovviamente abbiamo avuto tantissime disdette, abbiamo avuto tantissime disdette, io parlo da operatore ma parlo anche da tour operator che gestiscono tantissime strutture sulla zona di Marina e i direttori mi parlano chiaro di percentuali importanti di perdita a differenza dell'anno scorso. Non si capisce le ragioni per cui la SAC tiene un ramo di aziende in perdita dopo dieci anni e deve ogni anno ricapitalizzare. Quindi c'è una volontà precisa, non c'è una volontà di migliorare e di rilanciare. Chiederemo un comitato permanente in modo che oggi comincia la protesta e non finisce oggi con questo sit-in. Tre uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Le vittime sono due sorelle. Nonno e zio hanno abusato delle nipoti minorenni per oltre dieci anni. L'indagine dei carabinieri le ha strappate dalle mani degli orchi grazie alla segnalazione dell'insegnante della bambina più piccola a cui l'alunna aveva raccontato degli abusi terribili coperti anche dai genitori. Sono state arrestate quattro persone e condotte in carcere. Nonno, zio e genitori delle vittime che oggi hanno 13 e 19 anni. Per oltre dieci anni hanno abusato di due bambine, nonno e zio. Alle prime luci dell'alba di oggi nella provincia di Palermo sono stati i carabinieri della Compagnia di Monreale a dare esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti delle quattro persone indagate a vario titolo per violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti con abuso di autorità e nei confronti di minori di anni dieci. L'indagine dei carabinieri per violenza sessuale di gruppo oggi porta all'arresto del nonno e dello zio e anche dei genitori delle vittime. Le due sorelle all'epoca dei fatti avevano meno di dieci anni. Tutto è nato dalla segnalazione dell'insegnante di una delle due vittime. La maestra di sostegno della bambina più piccola ha raccontato che quando aveva nove anni il nonno e lo zio, approfittando del fatto che a casa non ci fosse nessuno, avevano abusato di lei sistematicamente. Nell'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura coordinata da Maurizio De Lucia vengono riportate anche le parole delle vittime che descrivono in dettaglio le violenze subite in casa. Abusi raccontati anche dalla sorella con le stesse parole. Delle violenze erano a conoscenza i genitori delle vittime che non hanno mai denunciato e perciò sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale in concorso, reiterati episodi che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023 ai danni delle due sorelline all'interno dello stesso nucleo familiare. Operazione antidroga Crack Point ad Augusta, emesse 11 misure cautelari, scoperta un'imponente piazza di spaccio di cocaina e crack incontra da Scardina. Era una sessantenne a gestire all'interno della propria abitazione ad Augusto un vero e proprio laboratorio e centro di spaccio dove ricevuta la cocaina provvedeva a lavorarla per trasformarla in crack e cedere le singole dose agli assuntori a credito o dietro corrispettivo. E' quanto scoperto dalla polizia durante l'operazione Crack Point avvenuta all'alba di oggi in contrada a Scardina con l'esecuzione di un'ordinanza di 11 misure cautelari. Tre persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari, una è stata sottoposta all'obbligo di dimora e sei persone risultano indagate e stato di libertà. La donna al vertice di un sodializio sarebbe stata coadiuvata da alcuni collaboratori che si adoperavano per trasportare lo stupefacente da Catania ad Augusta seguendo le direttive su dove acquistare la sostanza, su quale itinerario intraprendere per evitare i controlli delle forze dell'ordine. In gente il quantitativo di stupefacente ceduto dai soggetti indagati in media tra i 200 e i 250 grammi a settimana i cui proventi sarebbero confluiti nelle casse della donna. Al fine di recuperare il denaro dai propri creditori insolventi i collaboratori ricorrevano a minacce o atti di violenza e la donna, per assicurarsi col rispettivo dello stupefacente, avrebbe trattenuto le carte del reddito di cittadinanza di alcuni assuntori a titolo di pegno. Al termine dell'operazione sono state sequestrate 150 grammi di cocaina, 10.000 euro in contanti, quattro carte di reddito di cittadinanza, due libri mastro con i credit della droga annotati, materiali di confezionamento e bilancini di precisione. Inoltre sono stati segnalati 30 assuntori di sostanza stupefacente alla prefettura. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrate a carico della donna una dose di cocaina, un libro contenente gli appunti dei debiti contratti dai vari assuntori, 525 euro in banco note di vario taglio, materiale per il confezionamento e una carta del reddito di cittadinanza appartenente ad un soggetto tossicodipendente. Una fattoria a Castelvetrano con tanti animali tra cui un dromedario e una zebra tenuti senza le necessarie autorizzazioni è stata scoperta dai carabinieri forestali. C'erano anche 8 cinghiali, 4 daini, 2 muffloni, 2 istrici e 2 canguri appartenenti alla specie wallaby delle briglie, privi di documentazione, utile a rilevarne l'origine e la provenienza e che ai sensi della normativa italiana sono indispensabili e sono da ritenersi appunto imprescindibili per specie potenzialmente pericolose che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. E' la scoperta fatta all'interno di una fattoria di Castelvetrano dai carabinieri forestali e del Centro Anticrimine Natura di Palermo, il nucleo CITES, di staccamento di Trapani, unitamente a personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e delle WWF che hanno eseguito un accertamento presso l'azienda zootecnica denunciando il proprietario e sequestrando diverse specie di animali irregolarmente detenute o prive di documentazione regolare. C'era anche un esemplare di pappagallo cenerino e un esemplare di rossella orientale, un'altra specie di pappagallo inserito anch'esso tra le specie in via d'estinzione per la cui detenzione è necessaria la documentazione CITES che ne attesti la nascita per riproduzione in cattività escludendone quindi il prelievo in natura. A seguito dell'accesso i carabinieri del nucleo CITES hanno infatti accertato che l'uomo deteneva oltre a numerosi capi in regola con tutte le autorizzazioni di rito altri 19 esemplari da ritenersi a vario titolo irregolari. Per la detenzione di questo tipo di esemplari purché non si tratti di allevamento regolarmente autorizzato dalla Regione è necessaria una autorizzazione rilasciata dalla Prefettura volta a disciplinare le modalità di detenzione e il numero massimo di esemplari consentiti. Tutti gli esemplari rinvenuti all'interno della struttura si trovavano in ottime condizioni di salute pertanto gli stessi sono stati affidati alla struttura in attesa di individuare luoghi idonei e regolarmente autorizzati alla detenzione di queste specie. La città di Catania è sommersa del rifiuto una denuncia che ormai va avanti da mesi se non da anni cambiano le amministrazioni ma il problema persiste cumuli di spazzature in ogni angolo della città discarichi a cielo aperto una vera e propria emergenza che non si riesce ad arginare gli operatori ecologici raccolgono tutti i giorni e bonificano le zone ma poi le discariche si riformano a causa dell'inciviltà delle persone che non hanno rispetto neanche per i luoghi in cui vivono sicuramente una città così piena di rifiuti non rappresenta un biglietto da visita eccellente per i turisti il sindaco di Catania Enrico Trantino aveva già preannunciato che si sta lavorando all'installazione di telecamere di videosorveglianza ma bisogna accelerare i tempi perché la città è diventata invivibile così come ci dicono i catanesi è da schifo non c'è non c'è una cosa giusta non ci sono parole per definire ma c'è tutta Catania così io abito in una zona qua a Librino e là c'è niente non c'è uno schifo il comune finora non ha fatto niente con Trentino lo so è un po' da per tutto in giro anche chi ha un'attività commerciale ha seri problemi i cattivi odori si sprigionano ogni giorno e c'è anche la paura delle condizioni igienico-sanitarie con la presenza di topi e quant'altro neanche con gli odori le puzze che ci sono è diventato insostenibile appena svuotano riempiono immediatamente non si sa come non si sa quando ma riempiono l'indomani si trova sempre spazzatura continuamente a parte che rischiamo anche animali topi la settimana scorsa eravamo andati a San Francesco l'arena sempre a Catania dove la situazione è veramente indescrivibile una discarica a cielo aperto non ci sono parole per descrivere lo scempio ma bastano già le immagini che vedete restiamo a Catania dove i residenti devono fare conti anche con la carenza idrica ma la sidra la società che gestisce il servizio in città rassicura la città di Catania non deve fare conti solo con l'emergenza rifiuti ma anche con la carenza idrica e numerosi quartieri il comitato popolare catanese ha convocato un incontro con la stampa per fare punto della situazione dopo le numerose lamentele il movimento chiede un servizio di primaria importanza per la tutela della salute dei cittadini e di conoscere a gran voce le cause concrete di questi disservizi quotidiani che fra gli altri interessano in modo particolare i quartieri più popolari il presidente del comitato popolare catanese Giuseppe Lipera in campo a difesa dei cittadini sono venuto qua invitando i cittadini a manifestare le loro lamentele che sono legittime giuste e cercare di spronare spronare l'amministrazione comunale ora il consiglio comunale è dal 29 maggio si è riunito l'11 agosto solo per autoproclamarsi ok ma nessuno dove c'è un consigliere comunale qua nessuno non c'è nessuno Trantino sta chiedendo le dimissioni di Fatuzzo no non c'è non c'è nessuno ci siamo noi questa povera gente il movimento chiede dunque un incontro urgente con il presidente di Sidra e al sindaco Trantino chiede di conoscere fin da adesso le motivazioni effettive di questi disservizi la mentella intanto arrivano anche dei residenti delle zone colpite quando mi sono ritirata ieri mattina acqua non ne avevo ho detto ma come dico acqua poi ho chiesto diciamo al vicino il vicino mi ha detto noi c'è da sabato che siamo senza acqua dice io non ho sofferto perché c'è una giara qualcosa avevo qualche recipiente insomma non ha sofferto però diciamo era ieri pomeriggio verso le 16 così è arrivata ieri sera si è normalizzata diciamo in parte ma sempre esce terra la pressione non è quella che dovrebbe essere la Sidra non mi dà il servizio dell'acqua devo andare a prendere l'acqua con i bitoni e andare fuori Catania in una zona dove c'è possibilità di prendere l'acqua intanto arriva la replica del presidente della Sidra Fabio Fatuzzo che rassicura i catanesi dichiarando che è stata individuata la grossa perdita che causava la carenza di acqua ed è stata riparata inoltre domani si riunirà il CDA presieduto dal vice presidente Agosta in cui sarà fatto il punto della situazione e sarà affidato un progetto per conoscere e capire qual è la situazione attuale della rete idrica di tutta la città di Catania e se ci sono altre perdite in modo tale da intervenire tempestivamente questa mattina il questore Pinuccio Albertina Agnello ha presentato il nuovo capo di gabinetto e portavoce della questura Emanuele Giunta alla Stampa Nissena si è insediato questa mattina in questura a Caltanissetta il nuovo capo di gabinetto e portavoce Emanuele Giunta vicequestore della polizia di stato 54 anni laureato in scienze politiche sposato con la giornalista Nadia D'Amato è entrato in polizia nel 1991 l'assegnazione del dottore Giunta a Caltanissetta è stata fortemente sostenuta dal questore di Caltanissetta Giuse Agnello ed è stata effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza con provvedimento del capo della polizia lo scorso 10 luglio Emanuele Giunta è un funzionario esperto e ritengo che la questura di Caltanissetta sia il posto giusto per il suo proseguimento di carriera per continuare a mettersi in gioco e per restare al servizio della collettività ha commentato il questore Agnello Giunta nel corso della sua trentennale carriera ha svolto servizio al commissariato di polizia di stato di Tortorici in provincia di Messina al commissariato di Adrano in provincia di Catania e alla polizia di frontiera aeroporto Fontana Rossa sempre a Catania fino al 2003 ha svolto servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e successivamente alla squadra mobile con un breve periodo di interruzione dal 1997 al 1999 nel corso del quale è stato assegnato alla questura di Vibo Valencia nel 2004 è stato trasferito alla questura di Ragusa dove ha diretto il commissariato di pubblica sicurezza di Comiso quello di Vittoria e dal 2019 è stato dirigente dell'ufficio tecnico logistico provinciale nel corso della sua permanenza alla questura Iblea ha ricoperto anche gli incarichi di responsabile della protezione dei dati personali e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione il dottore Giunta ha frequentato il corso presso il centro di formazione per la tutela dell'ordine pubblico di Nettuno ed è formatore in materia di stewarding intitolato lo scrittore Andrea Camilleri l'istituto comprensivo di Favara cerimonia di intitolazione questa mattina dell'istituto comprensivo di Favara lo scrittore agrigentino Andrea Camilleri si tratta della prima scuola in Sicilia dedicata al famoso autore siciliano nel giorno in cui avrebbe compiuto 98 anni la città ha voluto rendergli omaggio alla presenza delle massime autorità civili e militari per l'occasione è stato emesso un annullo filatelico celebrativo da parte di poste italiane il logo dedicato ad Andrea Camilleri è stato realizzato e donato dall'artista Sergio Criminisi è stato anche scoperto un mezzo busto commemorativo dello scrittore realizzato dall'artista agrigentino Giuseppe Cacocciola presente alla cerimonia la nipote di Andrea Camilleri Arianna Mortelliti ed è per me un onore l'intitolazione di questo istituto soprattutto perché è curioso il fatto che nonno non sia stato uno studente modello ci sono arrivate le sue pagelle scolastiche era un piccolo ribelle ma un ribelle illuminato che ci ha dimostrato quanto fosse colto quanto fosse particolarmente elevato col passare degli anni intitolati anche quattro plessi alle figure di Antonio Russello il bersagliere Giuseppe Urso di Luigi Pirandello e di Antonio Mendola e Antonio Vaccaro l'occasione per valorizzare le testimonianze di vita di personaggi che pur nella diversità dei rispettivi ruoli hanno dato un significativo esempio di attaccamento al senso del dovere lo ha rimarcato la dirigente scolastica Rosetta Morreale sono dei personaggi dove ragazzi li devono vedere come amici per poi continuare in questo percorso di senso civico di legalità di attaccamento alla propria padera la cerimonia è stata presieduta dal prefetto di Agrigento Filippo Romano il momento simbolico di questa giornata naturalmente ha la sua importanza per il rispetto della storia soprattutto di Favara perché la toponomastica compresa l'intitolazione degli edifici scolastici e la traccia più viva e più quotidiana della grande storia che hanno tutte le nostre città Maddalena Tirella 22 anni giovanatrice modicana che ha rappresentato l'Italia nella sesta scena della tragedia dell'uomo al decimo International Theater Olympic Festival 2023 è stata ricevuta dal sindaco di Modica Maria Monisteri che le ha consegnato una medaglia raffigurante Manfredi di Chiaramonte Maddalena che vive a Milano e studia l'Accademia del Centro Teatro Attivo ha raccontato di aver vissuto in Ungheria per un mese prima della rappresentazione teatrale per la quale la giovane attrice modicana ha ricevuto apprezzamenti dal direttore artistico del teatro antico di Budapest adesso ci fermiamo c'è una breve pausa pubblicitaria a tra poco seconda parte del nostro telegiornale la commissione europea incontra le eccellenze gastronomiche della Sicilia tra queste anche quelle della provincia di Ragusa la visita fa parte del tour dell'isola che si è candidata come regione gastronomica d'Europa 2025 la commissione europea fa tappa in Sicilia dopo la candidatura a regione gastronomica d'Europa 2025 i commissari IGCAT sono venuti per verificare e scoprire i prodotti culinari straordinari dell'isola si tratta di esperti in gastronomia cultura arte e turismo l'isola ha già presentato la candidatura grazie al DOS l'organismo presieduto da Massimo Todaro che raggruppa i consorsi di tutela siciliani e che ha ottenuto il sostegno della regione siciliana quello che stiamo facendo è presentare le migliori eccellenze la nostra tradizione enogastronomica i nostri piatti più antichi a questa commissione di sei componenti che vengono dalle sei nazioni d'Europa proprio per fargli comprendere che la Sicilia merita questo riconoscimento per raggiungere l'obiettivo essenziale che una commissione indipendente valuti in modo approfondito la candidatura per questo la commissione resterà una settimana in Sicilia dove farà un tour attraverso le delizie culinarie ieri è stata la volta della provincia di Ragusa dove la commissione ha visitato i laboratori scientifici del Corfilac e i magazzini di stagionatura del ragusano DOP ad accoglierli c'era il direttore di progetto Natura Salvatore Cascone speriamo che colpisce negli animi e nel senso di questa commissione sicuramente per noi è il massimo che abbiamo sul nostro territorio speriamo che questa impressione riusciamo a trasferirla anche agli altri presenti anche i rappresentanti dei consorsi di tutela del ragusano DOP pomodoro di Pachino IGP carota di ispica IGP cioccolato di modica IGP e olio DOP Montiblei adesso la commissione proseguirà le sue visite in Sicilia per valutare attentamente la candidatura con la speranza che presto la Sicilia possa freggiarsi del titolo di regione gastronomica d'Europa 2025 tutti quanti sanno che la Sicilia ha dei favolosi prodotti enogastronomici ma quello che ci ha assolutamente sorpreso è il capitale umano quindi tutte queste persone che lavorano insieme per valorizzare l'identità gastronomica della regione servono i preparativi a Militello in Val di Catania per la festa in onore di Maria Santissima della Stella è tutto pronto a Militello in Val di Catania per i festeggiamenti esterni in onore a Maria Santissima della Stella che si terranno venerdì 8 settembre Video Mediterraneo seguirà l'evento interamente garantendo la diffusione della Santa Messa con il Cardinale Bagnasco ad ufficiarla e la processione esterna i fedeli sono in trepidante attese intanto per il momento di domani sera 7 settembre quando il volto di Maria Santissima della Stella verrà svelato alla comunità abbiamo parlato con il Comitato per i festeggiamenti in onore a Maria Santissima della Stella che da un anno organizza senza sosta i festeggiamenti la festa ha avuto già inizio il 29 di agosto con la solita cantata che vede la comunità di Militello in processione per le vie del paese siamo in attesa di vedere il volto della Vergine Santa il 7 settembre alle ore 21 c'è tanta attesa anche perché l'aspetto devozionale quest'anno come gli altri anni ha avuto la meglio sicuramente a seguito degli ultimi eventi quest'anno avrà un input in più e con questo servizio è tutto MTG termina qui grazie per averci seguito e buon pomeriggio Grazie a tutti